Ad Agritour un focus sull'importanza dei cammini, in particolare il cammino di Francesco. In base a quella che è la sua esperienza, qual è l'apporto che queste esperienze possono portare, soprattutto per quello che riguarda la costruzione di posti di lavoro? Francesco Suiz nasce nel 2010 in Umbria, anche se oggi è un soggetto interregionale e quindi comprende anche la Toscana, il Lazio e l'Emilia-Romagna. È un soggetto che è nato proprio per la promozione e lo sviluppo di posti di lavoro perché si è occupato fin dall'inizio sia della promozione che della commercializzazione, inizialmente solo della Via di Francesco e poi di tutti i cammini che sono nel centro Italia e che quindi si snodano in queste quattro regioni. Sicuramente la nostra esperienza ci porta a dire che è uno strumento di sviluppo del territorio, è uno strumento di sviluppo economico e per le piccole e medie imprese del turismo sicuramente è un'opportunità, in quanto i numeri sono decisamente in aumento, specialmente negli ultimi quattro anni. Il nostro consorzio che si occupa anche di commercializzazione ha visto un incremento notevole del fatturato in questi ultimi quattro anni e questo ci fa ben sperare perché come a Santiago ci sono 350.000 pellegrini ma c'è un indotto di 3-4 milioni di turisti, anche la Via di Francesco potrebbe diventare un volano su questi territori che hanno bisogno di nuovi modi per potersi sviluppare. Sono per lo più quelli che sono sulla Via di Francesco piccoli borghi, piccole zone nelle quali chiaramente l'industria spesso non è presente o comunque c'è una piccolissima industria o piccolissimo commercio e quindi il turismo può diventare veramente uno strumento di sviluppo territoriale ed economico veramente diciamo importante. I cammini di Francesco sono una miniera inesauribile possiamo dire di risorse per i nostri territori sotto vari punti di vista. Negli ultimi anni l'associazione dei cammini di Francesco in Toscana sta cercando di promuovere questa realtà. Qual è appunto il valore aggiunto che può donare per i nostri territori? Io vorrei che prima di valori aggiunti direi che anche noi siamo in difficoltà perché questo finanziamento è fermo al Ministero dal 2016, finanziamento per i comuni per mettere in sicurezza i cammini che è la base indispensabile per poter fare promozione, creare l'accoglienza eccetera. Lo dico però di fronte a problemi come quelli del MOS e di Taranto poi mi sembra abbastanza meno importante e influente di quello dei cammini però è un segnale che questo paese non sa costruire, non sa fare. Intorno ai cammini può nascere una piccola economia ma soprattutto può nascere uno spito di accoglienza straordinario di cui sentiamo tutti il bisogno. Quando Calvino diceva che in una città sono 77 gioielli però è come una città sa darsi una risposta che conta. Noi mi sembra che spesso non sappiamo dare questa risposta, io mi auguro che il progetto proseda, vada avanti, c'è tanto interesse ma non solo da parte dell'amministrazione ma anche da parte del mondo intero perché intorno alla figura di Francesco stanno lasciando tutta una serie di iniziative, non ultima quella sull'economia con questo convegno che organizza la Santa Sede ad Assisi il marzo prossimo e quindi io mi auguro che tutto questo riesca a fare una pressione perché si sblocchi questa situazione che per ora è abbastanza pesante anche nei confronti di chi si affronta il problema dell'associazionismo come assoluto volontariato. Il tema dei cammini, delle vie, del cammino a piedi negli ultimi anni sta attirando sempre più attenzioni ma qual è il significato più profondo di questo modo di fare turismo? Innanzitutto sottolineo che il significato profondo di un cammino si comprende camminando proprio in strada. Tante volte troviamo diari, troviamo libri, troviamo delle spiegazioni, troviamo dei racconti ma il racconto più importante e più significativo è quello che poi alla fine riusciamo a fare tornando a casa e raccontando a noi stessi quello che abbiamo vissuto. Il significato profondo parte dall'incontrare, incontrare qualcuno che ti cambia la vita, incontrare qualcuno che te la renda ancora più ricca, incontrare qualcuno che forse ha bisogno anche di essere cambiato dalla tua presenza. Il cammino ci ha sempre donato qualcosa di più, passo dopo passo l'incontro con ogni giovane, con ogni adulto, anche con coloro che hanno i capelli bianchi e che hanno voluto veramente intraprendere un percorso sono una ricchezza, non solo per il cammino ma per ogni persona che poi il cammino cerca di viverlo. Quindi il significato profondo è quello di mettersi in cammino. Mettendoci in cammino riusciremo a capire noi stessi, riusciremo a capire le nostre sofferenze, le difficoltà, le gioie profonde, riusciremo a capire che non si può stare fermi, non si può partire con uno zaino già pieno ma con uno zaino vuoto che passo dopo passo si riempirà di qualcosa in più e quello non si può spiegare, non si può spiegare perché l'invito più grande è quello di mettersi in cammino. Mettetevi in cammino perché qualcosa vi sta aspettando, non soltanto coloro che troverete alla meta o colui che troverete alla meta, che sia San Francesco, che sia Santiago, che sia qualsiasi altro santo che in qualche modo ha iniziato prima di noi il cammino, ma soprattutto riusciremo a incontrare il significato profondo della nostra vita e perché no, anche ogni giorno troveremo noi stessi.